In occasione della giornata contro la discriminazione, il Comune di Cosenza ha promosso nell'auditorium dell'Istituto Superiore da Vinci Nitti di Viale Mancini un convegno dal titolo L'omofobia, un male da cancellare. Partendo dall'analisi di tanti soprusi e violenze di cui ancora oggi troppe persone sono vittime per il loro orientamento sessuale, il settore educazione del Comune ha voluto organizzare la manifestazione coinvolgendo direttamente gli adolescenti. C'è questa voglia dell'amministrazione proprio di collegarsi sempre con le scuole e questo è segno dell'importanza che diamo alla crescita proprio dei ragazzi. Il tema è importante, le discriminazioni sono da abolire, ci sono dei diritti che sono inalienabili della persona e sui quali dobbiamo però lavorare molto perché entrino nella consapevolezza di ognuno di noi. I ragazzi devono sapere che l'altro che è accanto a loro è una persona, siamo tutte persone. Io personalmente mi occupo molto di violenza alle donne, anche nei confronti delle donne c'è una discriminazione sottile che non è soltanto il femminicidio, non è soltanto la violenza fisica ma c'è una discriminazione sottile che deve essere compresa e deve essere capita e deve essere superata. Il messaggio dunque è quello di ribadire con chiarezza il rifiuto ad ogni discriminazione sessuale o civile e la strada da percorrere è quella del dialogo che deve essere ogni giorno incentivato e supportato da testimonianze ed esperienze. non è un sogno di indagazioni perché non è un sogno di indagazioni perché non è un sogno di indagazioni.